Ciao a tutti, cari telespettatori, Tagba Bujukustun e suo marito Engin Akyurek Tagba Bujukustun, che è stata vista ingrassare durante le vacanze, è incinta. Tuba Bujukustun, che iniziò una storia d'amore con Engin Akyurek, si ritrovò presto al tavolo delle nozze. C'è stata una sfilata di celebrità al matrimonio della coppia, che ha portato i cinque mesi di pericolo dell'unione al tavolo del matrimonio il 2 dicembre, tenutasi dalla nave Alas. Dopo le accuse di separazione, la coppia è stata vista in vacanza a Cesme. Demet Akalen ha fatto un commento lampo sulla ragazza incinta a Tuba Bujukustun, che è stata vista ingrassare. Tagba Bujukustun, che si vede ingrassare, è incinta. Tagba Bujukustun è stato visto tenersi per mano con Engin Akyurek. Tuba Bujukustun e Engin Akyurek hanno unito le loro vite con una semplice cerimonia tenutasi sulla nave Alas ancorata a Emirgan lo scorso dicembre. Dopo questa situazione, la coppia, che presumibilmente avrebbe dovuto lasciare Cesme, è andata in vacanza privata a Cesme. Il commento incinta di questa ragazza ha confuso le persone. Tagba Bujukustun, che sembrava aver guadagnato peso, ha ricevuto un commento flash da Demet Akalenz, secondo cui questa ragazza è incinta. Le parti non si sono ancora pronunciate, ma la famosa coppia non si è ancora pronunciata sulla questione. Vi presenteremo gli sviluppi e gli ultimi post sull'argomento. Arrivederci!